un pelo più verso l'alto tipo 45 gradi bravissimo così schiena dritta e gg la bilancia ce l'ho pesata e poi non credo eh sto cercando non sono messa questa la intanto te la cerco dentro la seda ti giuro non cazzo non è c'è una crisi profonda non dovrebbe essere qui da questa parte però ho preso ciò che c'è con la leggenza e l'ho attaccato è possibile che lo vediamo qui non c'è l'ho attaccato non c'è l'ho attaccato non c'è più la carpa 3 kg 3 kg 3 kg non c'è l'ho attaccato non c'è l'ho attaccato